La settimana in consiglio Assemblea della Conferenza dei Presidenti Per la scuola materna di Medolla Delegazione del Cur di Stagnaracheno Dal 2011 il Consiglio regionale del Piemonte ha avviato una collaborazione con il Parlamento del Kurdistan iracheno con sede a Erbil. Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo con il consigliere Luigi Cursio ha ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti della Fondazione Barzani, Ahmed Musa e Idris Bermihari. Studenti ONU a Palazzo Lascaris Corsisti in Green Jobs dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris dal Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Placido. La delegazione era composta da studenti che già lavorano nell'area ambientale provenienti da Camerun, Costa Rica, Egitto, Germania, Kenya, India, Messico, Trinidad, Tobago e Turchia.